L'Atalanta perde contro la Fiorentina e inaspettatamente esce dalla Coppa Italia. Io penso che da questa partita ci possiamo ricavare diverse informazioni, diversi elementi, si può scavare molto rispetto poi a un giudizio solo di superficie e tutto deve partire necessariamente dall'analisi oggettiva della squadra che abbiamo messo in campo. Una squadra, se vogliamo chiamarla B, non sbaglieremo più di tanto perché due difensori dal minutaggio molto limitato, un tridente totalmente inedito, fatto di giocatori che comunque non sono nell'11 perfetto o quantomeno non lo sono in quella posizione e tutti gli altri titolari perché non c'erano possibili riserve. Non c'è Castagne quindi Attenborough deve giocare, non c'è l'esterno sinistro quindi Gosses deve giocare, Freuler e Deron devono giocare perché gli altri due li hai messi in attacco, hai cinque difensori quindi un titolare per forza deve giocare in una linea 3 e il portiere va a bere un altro discorso. E questa scelta secondo me è dettata da una considerazione abbastanza ovvia, cioè che con gli 11 titolarissimi te non puoi giocare 3 competizioni. Io penso che sia questo l'elemento che ha spinto Gasperini a fare questa analisi perché mi rifiuto di credere che abbia voluto fare turnover dato che è uno che sul 7-1 non fa entrare nelle riserve così come non penso che abbia sottovalutato la Fiorentina. Lui giustamente dicendo ho una serie di giocatori di valore perché comunque Malinowski, Muriel, non sono gli ultimi arrivati, li vado a impiegare in quella che ritengo la competizione meno importante dove vorrei arrivare il più avanti possibile ma se non ci arrivo disgrazia fermati lì. Quello che secondo me è ancora più interessante è che dal campo vengono fuori una serie di elementi che tra l'altro avevamo più o meno tutti già almeno una volta preso in considerazione utili soprattutto adesso che siamo anche in fase di mercato. La prima considerazione che io faccio è che Caldara secondo me si detenererà un acquisto molto utile perché sequestra la sua partita dopo mesi e mesi e mesi e mesi di panchine e brutti infortuni sono pienamente soddisfatto e non può che migliorare solo un po' più scettico e con un po' è un eufemismo sul reparto offensivo perché se è vero che sono giocatori di valore è altrettanto vero che non possiamo dire di avere 16 titolari abbiamo 16 ottimi giocatori ma che effettivamente nella formazione non si inseriscono perfettamente provo a andare un po' più a fondo Malinowski ha fatto secondo me fino ad oggi un buonissimo campionato ma come vice papu che laddove Gasperini lo vede è evidente a tutti che ne deve ancora mangiare parecchio nessuno pretende che sia pronto però chiaramente è un giocatore che oggi come oggi non è in grado di sopperire la mancanza del papu né da un punto di vista qualitativo né da un punto di vista umano perché la cosa che a me e os ha detto una volta mi disturba di più è la mancanza di carattere di questi giocatori in particolare di Malinowski e di Muriel da cui francamente essendo anche giocatori nel giro delle proprie nazionali che hanno disputato Jakub e così mi aspetterei un atteggiamento più da leader Malinowski ha tutto il tempo per crescere per carità però oggi non è una persona a poter impiegare come titolare inammovibile e non è un candidato a essere un titolare ammovibile e Muriel è un giocatore che anche oggi per esempio non ha giocato male perché alcune soluzioni le ha fatte ma è evidente che se tu l'hai preso volendo avere una seconda punta di peso di riferimento che sia in grado di fare tanti gol su azione ma anche di prendersi la squadra sulle spalle di trascinarla effettivamente non sta rispondendo a quelle richieste io poi lo dico sempre non sono qua a sputare sentenza a sputare giudizi definitivi oggi il campo dice questo e ci auguriamo tutti che il campo domani dica qualcos'altro cioè che col lavoro con l'abnegazione, gli sforzi, il tempo i giocatori poi si confermino e diventino dei leader in grado di trascinare la squadra oggi non lo sono e se la società è sul mercato perché poi le voci di Trencao quanto pare sono vere effettivamente anche la società si è resa conto che davanti non serve solo un innesto qualitativo ai fini del gioco ma servono anche dei giocatori che si possano candidare a diventare poi i futuri trascinatori di questa squadra perché l'elemento che secondo me oggi è mancato ed è il terzo punto che secondo me dobbiamo tenere in considerazione non è tanto il gioco perché a guardare le statistiche l'Atalanta ha fatto molto di più della Fiorentina la Fiorentina con una squadra attitolata titolare eccetto Chiesa poi magari non so se c'era qualche squalificato non ha combinato moltissimo e poteva anche andare a perderla quindi l'Atalanta non ne esce da un punto di vista dei valori assoluti così male come sembra ne esce male secondo me dal punto di vista dell'atteggiamento perché una squadra che dovrebbe facendo giocare quelli che giocano di meno dimostrare qualcosa di più perché io giustamente se gioco di meno quando vengo impiegato come titolare dovrei cercare di far vedere il massimo e invece non l'ho fatto così come quei giocatori nel momento in cui la squadra era in difficoltà non sono stati in grado di prendersi la squadra sulle spalle io sto concetto continuo a ripeterlo perché poi il calcio è uno sport di squadra servono anche queste persone serve il papu che ti dice dai svegliamoci e lì secondo me giocatori che hanno esperienza internazionale con le loro nazionali che hanno già giocato in altre coppe purtroppo non hanno quel temperamento non hanno quel carisma che secondo me in questo caso sarebbe bastato per risvegliare dal torpore la squadra e spronarla a fare meglio che poi a volte serve anche solo un incitamento un trascinatore e oggi non c'è stato questi secondo me sono gli elementi che sono giunti alla dirigenza che magari la dirigenza voleva proprio sonnare e vedremo se ci saranno delle risposte dal mercato poi ovviamente il tutto il discorso è legato alle ambizioni al percorso che stanno facendo i giocatori ripeto come sempre io non sputo sentenze oggi siamo a questo stato dell'arte secondo me ci auguriamo tutti che lo stato dell'arte migliori con questi giocatori perché io non stronco nessuno mai l'ho fatto e mai lo farò sempre spazio per ricredirmi e per i miglioramenti però oggi quello che vediamo è questa cosa qua fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate nei commenti ovviamente vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e come sempre noi ci troviamo su talantini.com ciao